Ciao a tutti ragazze e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sto per assaggiare questo per la mia prima volta E' il Kinder Bueno a gelato della Ice Cream E niente, apriamolo Oddio, sono emozionatissima, io aspetto tantissimo sto momento No, non ci credo Oddio, ma profuma pure un botto Poi dopo assaggerò un altro gelato Che...assaggiamo Cioè assaggerò un gelato però fatto così Sempre della Ice Cream Sempre della Kinder Bueno Mmmmm Sono emozionata Ciao mamma, è buonissimo 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 Le doppiore sono? Bene sono le undici Le dieci Diciamo che è molto buono Molto molto buono A provo Molto Già vedete quanto sto stagendo Questo per la mia prima volta All'epoca avevo le forze Adesso forze Poca roba, bimbi Sono grandi cose Ci voleva andare in pensione da giovani Non da vecchi Era una buona cosa Se andava in pensione da giovani Si lavorava da vecchi L'avevano fatto un massimo A noi in pensione 50-50 euro E vedo sempre quello di qua Però dico che è molto buono Io ho lavorato fino ai 70 70 Questa sia di nocciola Poi in altri video vi dirò come è andato a finire Ciao Ciao